ciao a tutti oggi prepareremo la bava resa al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più una notte di riposo in freezer gli ingredienti sono scorza di limone latte intero panna fresca molto fredda zucchero tuorli fogli di gelatina ammollata in acqua fredda e essenza di limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 70 grammi di zucchero la scorza del limone chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 arriviamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo il latte i tuorli l'essenza di limone e 100 grammi di panna chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti 90 gradi velocità 2 nel frattempo riposizioniamo la panna in freezer che ci servirà ben fredda per essere montata adesso aggiungiamo i fogli di gelatina li strizziamo per bene chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3 trasferiamo il composto in una ciotola capiente e lasciamo raffreddare abbiamo ripreso la panna adesso andremo a polverizzare la dose di zucchero che era rimasta azionando il bimbi per 10 secondi a velocità 10 prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale posizioniamo la farfalla versiamo la panna chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 3 e mezzo la panna non dovrà essere ben montata ma semi montata fermiamo il bimbi adesso trasferiremo la panna nella ciotola aggiungiamo la panna e la incorporiamo al composto con movimenti circolari dal basso verso l'alto adesso trasferiamo il tutto in uno stampo in silicone che abbiamo unto con dell'olio di semi riponiamo in freezer per tutta la notte trascorso una nottata la bavaresi si è indurita adesso la rimuoveremo dallo stampo adesso lasceremo riposare la bavaresi fino a quando non aggiungerà la giusta consistenza per essere consumata bavarese al limone grazie e alla prossima ricetta grazie 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 a tutti.